Potremmo venire anche un poveriggio. Ora, la maggior parte di voi hanno già partecipato al Paratham. Tu hai partecipato al Paratham, adesso sì. Il Paratham è fondamentalmente tantra. Perché quello che io insegno è diverso da quello che le pratiche normali del Tantra sono. Quindi ho dato un nuovo nome, Paratham. Quello che sperimenterete qui è andato perduto migliaia di anni fa. Quando abbiamo deciso di smettere di venerare e di onorare il Divino Femminile. Il Paratham consiste nell'adorazione del Divino Femminile nelle donne e in noi stessi. Perché ognuno vuole invocare la Divinità Femminile che è in sé in modo tale che la Kundalini Devi, che è alla base della colonna, possa risalire. Quindi quello che tutti coloro che praticano yoga o meditazione vogliono fare è appunto risvegliare la Kundalini. Ma è un'energia molto pericolosa da risvegliare. Ma è un'energia molto pericolosa da risvegliare. Quindi quello che noi facciamo nel Paratham è utilizzare l'energia maschile portandola da su verso il basso. Per poi danzare alla base della colonna e poi risalire lentamente. Perché l'energia maschile non ha la stessa forza dell'energia femminile. L'energia maschile è un po' più gentile. L'energia femminile è un'energia dinamica. Quindi vogliamo che sia soft, che salga lentamente. Quindi per tutte le altre forme di viaggi spirituali devi fare Namatha Yoga per essere certo che la tua colonna sia libera, sia immobile. You have to learn Bhakti Yoga to open up your heart and feel love and devotion. Bhakti Yoga per aprire il tuo cuore e sentire l'amore e la devozione. You have to learn Kriya Yoga for right action. Kriya Yoga for action. Poi devi imparare a Kriya Yoga per lezione, per agire. And then you have to have Jhana Yoga, which is knowledge of how to raise the energy. And then you have Jhana Yoga, which is knowledge of how to raise the energy. So you need to learn, then you have Mantra Shakti Yoga. Where you learn how to do Mantra. Where is with Paratan? He says, okay, you don't have to do any of this. All you have to do is clean your body to the bone marrow. This is a practice for two. Or many, or a community. Because with paradigm, you see, when we went from community consciousness to individual consciousness, the whole world became upside down. So nowadays we think about ourselves and then the community. So you're all isolated. You don't live like a community. Like in the old days, you will look at all the Italian moms, big ones, the old ones. The whole family lived there. The children, grandchildren, everything lived in one home. And then slowly from that communal living, you now live isolated from each other. And when they say, ah, it's abnormal for someone to live with their parents. Which is crazy. It's normal for you to live with their parents. Unless you want to start your own family. And if you can start your family around the corner, it's even better. Because the child has to be part of the community. And then the child grows up to be a lot stronger and better. They don't have this dependency. Because if you only depend on two people, and a lot of times you depend on the mother, then you have a dependency towards the mother. As a child. But whereas if the child is exposed to the community, then there's no dependency. If you look at children here, in the West, whether here in Australia, anywhere. At six, seven years old, they look as if they're carrying the weight of the world on their children. They look very serious and they don't look... They don't have the child's, you know, innocent face, nothing anymore. The clarity of life gets lost even when they're already babies. The clarity of life. The clarity of life. The clarity of life. The clarity of life. Because first thing is this, we tame, we make our children robots. Robots. Because they transform in robots. Again, because it's individuality. Because you have a house, the house is prepared, not prepared for the child. You bring the child to the world and say, now, learn to live in my house. Because what we do is take the child to take the child in a house that is not ready for him and say, now, learn to live in this house. You have gates. You have grills in your house. The child cannot go out and play. Mettiamo dei cancelli, mettiamo delle sbarre, e il bambino non può uscire a giocare. Because it's no more safe for the child to be on the road. But when you are in community consciousness, that whole community takes care of every child that is born in that community. but when you live in a community context, in that case, all the children take care of the child. If you want to see this, you have to go still when India is still not totally modernized. You have to go to the villages to see this. Half the time you don't see adults there. All of them are working. In the peri field or wheat garden. You know, they are all farmers. a 60 year old child will be carrying a one year old child walking around like a mother. And the old ladies who do not go into the family anymore, they are always around the area, they make sure that nothing goes wrong with the kids. E le donne anziane che non lavorano più rimangono nei dintorni e controllano che non accada nulla di male. E questo è il momento giusto per passare di nuovo dalla coscienza individuale a una coscienza collettiva, di comunità. Perché l'energia femminile è tornata. Quindi non vogliamo solo che gli uomini diventino femminili, ma vogliamo che le donne diventino più femminili. Perché se dandolo sguardo in giro vi rendete conto che molti uomini stanno diventando più forti. E le donne stanno cercando di diventare più forti. La morbidezza non è debolezza. In realtà anche se la gente pensa e dice questo, in realtà la morbidezza è forza. È più difficile essere una persona soft e aggraziata che essere una scimmia arrabbiata. Per far sì che qualcuno sorrida devi continuare a ricordarvi, sorridi. Da quando mi hai incontrata devi continuare a ricordarmi di sorridere, vorrei vedere sempre un bel viso sorridente. Quindi è più difficile di continuare a essere buoni. Non dovrebbe essere buoni. Ora non ti scusate per dove stiamo al momento. Questo è qualcosa che succede senza ignoranza per generazioni. E voi sei il prodotto di quello che succede per generazioni. Quindi non prendetevela con voi stessi per dove siete, in che stadio siete arrivati adesso, perché siete il prodotto di quello che è successo per generazioni. Siete tutti delle belle persone divine. Il tuo focus dovrebbe essere ora per diventare e abbracciare quella divinità che siete. Ricordatevi che siete la divinità di cui siete. Ricordatevi che siete la divinità di cui siete. Questo veicolo è soltanto un veicolo. Non siete voi. Siete passati attraverso migliaia di nascite prima di arrivare qui in questa stanza. Un'anima giovane non sarebbe qui, non verrebbe qui. Le anime giovani sono ancora impegnate ad avere a che fare con il traffico, con quello che è fuori da qui. Qualcosa dentro di voi dice che nella vita c'è di più che mangiare, lavorare, dormire. Questo significa che i vostri occhi sono aperti. Non questi due occhi. Questo occhio. Qualcosa in voi dice che la vita è più che quello che avete al momento. E questo è un buon inizio. E questo è un buon inizio. Quando iniziate un viaggio spirituale la prima cosa è che spiritualità significa comprendere lo spirito. E non sta nel numero di libri che avete letto. L'ho comprato tutti i libri che non la può trovare in un sacco di libri. Dizia. Lo sto facendo per cultura mia. E per migliorare. Per cultura personale. E per migliorare in un'azio. Per cultura personale. Quale cultura? Cos'è la cultura? La cultura significa che non sapere. Che cosa è la cultura? Ora devo andare oltre la conoscenza. Adesso devi andare oltre la conoscenza. I libri vanno bene come punto di riferimento. Come essere umano tu hai già tutte le informazioni qui. Ciò di cui parlo è soltanto per ricordarvi quello che voi già sapete. Non sto dicendo nulla di nuovo. Voi usate soltanto una piccola parte del vostro cervello. Ma c'è molto di più lì, lì dentro.